Viva il Papa! Aiaiaiai, qua vicino proprio, gira! Viva il Papa! Eccolo! 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 Sissi passa qui! Bravo! Viva il Papa! Viva il Papa! Girati! Prendo la metro anziché 40, forse 40 è più veloce pure. Vado dritta e vado lì. E io prendo questo bello bello io. Oggi Alvina sta da rosa, compiando di rosa. E' un po' basso. Alvina è un po' basso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.